Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video sul GTA V in single player Siamo qui oggi per testare una nuova mod ragazzi davvero davvero fantastica Che per un visto ho detto wow questa mod è troppo figa Tanto si l'annuncio dell'intro video con gli occhiali MLG che potrei anche togliermi perché mi stanno Comunque siamo oggi in questo nuovo video ragazzi siamo con Trevor in mutande Ma andiamo subito a switchare con Franklin perché switchiamo con Franklin? Perché lui è la nostra cavia delle mod Eccoci qui con Franklin ragazzi allora mod Cosa cazzo vuoi? La mod che andiamo a testare oggi ragazzi come avrete letto dal titolo qua sotto è la GTA V zombie mod Praticamente è una mod che aggiunge appunto degli zombie, aggiunge una modalità zombie ad orde In pratica noi non appena premiamo un tasto tutto il mondo di lo santo si trasformerà in un mondo zombie Questi zombie ci verranno addosso e dovremmo superare delle orde Ogni orda avrà un numero maggiore di zombie e gli zombie a ogni orda saranno sempre più agguerrite e sempre più bastardi Ovviamente non ha senso attivare invincibilità e robe varie ma che cazzo di traffico c'è oggi a Los Santos? Senza perderci in utile di chiacchiere ragazzi Partiamo subito con questa mod che a mio parere è veramente veramente figa Quindi andiamo a premere il tasto Z Andiamo a scegliere un'arma Allora che arma? Andiamo a scegliere la carabina speciale Come vedete il mondo si è trasformato ragazzi Si è cancellato il traffico adesso abbiamo tutti sti zombie pronti ad ucciderci E fidatevi che non è per niente semplice sopravvivere a più di 4 orde veramente Io sono arrivato a massimo 4 orde ragazzi Ma è fottutamente difficile veramente Perché sti zombie si spawnano dappertutto e voi dovete sempre controllarvi le spalle ragazzi Sempre controllarvi le spalle maledetti Andatemene via Un pugno loro praticamente vi tolgono quasi metà vita Quindi è meglio che li tenete alla larga sti zombetti perché vi vogliono mangiare Aiuto! Aiuto! Ok molto bene molto bene molto bene molto bene Ok! Prima orda superata Come vedete quando si passa da un'orda all'altra ragazzi C'è questo intermezzo E noi possiamo andare per esempio a cambiare armo Mettetevi un fucile a pompa Round starting 5 4 3 2 1 E inizia il secondo round Vediamo se riusciamo a sopravvivere Facciamo sempre Prima di fare sempre colpi alla testa Cazzo! Porca troia Visto maledetti Zombie di merda Oddio Quello io praticamente ho fatto un 360 della madonna Zombetti Per favore ve ne andate Io non vi voglio Non voglio diventare un non morto anch'io Io voglio Ok il secondo round superato ragazzi Sta per iniziare il secondo round Sta per iniziare il secondo round Ci mettiamo qui Vediamo Ci mettiamo qui in questa Questa piazzetta Siamo pronti ad ammazzare tutti i zombie Che Mamma mia ragazzi mamma mia Intanto abbiamo 900 colpi A voglia di uccidere zombie Possiamo fare un'apocalisse Altro che Che è delle orde Porca troia Quello mi stava per dare una pacca sul muso Che veramente me la faceva ricordare Per tutto l'anno Andiamo così Andiamo così Minchia proprio Poi li faccio volare con sto fucile Veramente fighi Via via Boom 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 Minchia i colpi in testa Sono veramente devastanti Boom Boom Questi Oddio da dietro da dietro da dietro Non è giusto da dietro Non vi voglio Che ragazzi è veramente veramente figa Questa mod è terzo round Bene intanto ragazzi Un'altra cosa fantasticamente fantastica È di mettersi in prima persona A utilizzare proprio il mirino dell'arma Che è veramente Altro che Call of Duty zombie GTA 5 zombie Questa noma di vita introdotta con le mod Perché è veramente fantastica Altra cosa che non vi ho detto ragazzi I zombie ogni volta che muoiono Droppano delle cose Droppano tipo delle valigette Dei portafogli Delle buste Che all'interno ovviamente Contengono dei soldi Questi soldi li possiamo raccogliere Ce li possiamo intascare Come ricompensa diciamo Di ogni orda che abbiamo sopravvissuto Quindi più zombie ammazziamo Più sopravviviamo Più soldi facciamo Quindi c'è anche Oltre al fine di divertirsi C'è anche un secondo fine Di fare i big money Con questa modalità Pezzi di merda Intanto sì In prima persona come vedete È davvero qualcosa di fantastico Veramente fantastico Intanto sì Si zombie Minta gli faccio fare le capriole Dalla meglio maniera Sto fucile è devastante Ma che è Che le distru... Oddio 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 Ce ne sono davvero tantissimi Davvero tanti Ok Siete morti Oh Non eri morto Non eri morto Scusa Intanto prendo Oh Mamma mia Quarto round Quarto round Ho la polizia Ci si mette anche la polizia Perfetto Ma penso che adesso La polizia scompaia Perché ovviamente Non penso la polizia Si trasformi i zombie Non voglio avere questa Nuova cosa Della polizia zombie Sì intanto sì Ovviamente scompare la polizia Ad ogni round Quindi GG WP Porca puttana Maledetti zombie Del mio penis Ragazzi Andiamoci in modo un attimino Un po' più volento Andiamoci di minigun Boom Mamma Dove cazzo sono Gli altri zombie Ah eccoli qui Si stanno spawnando Escono dalle tenebre Escono dalle viscere terrestri Sti zombie di merda E guardate da dove escono Escono Oddio 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 Si sono spawnati Eh figa Mi volevi Mi prendere da dietro Mi volevi mangiare le chiappe Brutto zombie di merda Ma Oddio Mi ha salvato L'intermezzo Minchia Questa modalità è veramente Fantastica Minchia Mi piace un sacco Mi diverto un fottì A giocarla ragazzi Veramente Veramente assurdo In realtà Guardate qui Quello che vi dicevo prima Ho preso I big money Dalle viscere Della terra E Proprio Ah Ah Orca troia Puttana Maledetta Veramente Mi sono cagato Ho finito le munizioni del minigun Mannaggia Veramente Intanto Riprendiamo Sto fucine Non so che arma sia questa Ma è la prima Non posso switchare adesso Ci sono troppi zombie Che se Andasse a cambiare arma Veramente mi uccidono Dove siete Signori zombie Per favore Mi fate passare Grazie Gentilissimi Gentilissimi Porca puttana Quanti ce ne sono Ah Ah Ma Ma Ah Guardate qui Quanti Bei 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 Zombetti Pronti A morire Quanti ce ne sono Lì in fondo Rega Guarda Ma Ma Che cazzo No 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 Sto morendo Sto morendo Per guardare Quelli in fondo Veramente Mi stanno facendo Il culetto Il culetto No No Di nuovo L'intermezzo Mi ha salvato Si Si Cazzo Si Ok Andiamo a cambiare arma Ragazzi Andiamo a mettere Qualcosa Di veramente Violento Cazzo Questa è la prima volta che crasha questa mod Non era mai crashata da quando l'ho installata Comunque ragazzi il gioco mi è crashato Purtroppo non mi va di ruolo di rifare Tutto il video per sta cosa Perché sono durato davvero tanto Era tipo alla quinta o alla sesta orda Non mi ricordo bene Come sempre se vi è piaciuto invito a lasciare un bel pollicione in su ragazzi Se vedete altri video di GTA 5 con le mod Fatemelo sapere con tanti miei pollicioni in su E ciao ciao